ciao a tutti amici di youtube con il video di oggi è uno speciale allora vuoi dirlo tu simona oggi saluteremo alcune persone e risponderemo alla domanda di barbie e le sue sorelle ok chi è questo qui oh madonna anzi prima di dire di ha caccato no non ha caccato e vi diremo ai cento iscritti costui lo vedete questo questa persona qui farà una sfida ormai mi sono divertita con le sfida sfidarlo cosa vuoi vi presento totò già totò saluta celeste ormai è sguazzato questo è il nostro amico totò uno dei cinque dove vuoi andare vai vai dall'uomo misterioso aiuto è arrivato chi è arrivato aperto nooo aspetta che è andato sulla maniglia aspetta che è andato sulla maniglia di qualcosa dai non parla è muto mi spiace ecco celeste queste celeste allora mi raccomando sono arrivati sono arrivati allora mi raccomando condividete i video così raggiungiamo i cento per fare la sfida ormai mi sono divertita ormai basta adesso passo la parola a simona che risponderà alla domanda cosa fai interagisci col papagallo allora barbie le sue sorelle chiede quanti anni hai io ho 13 anni e io sono la sua mamma celeste madonna sempre che ci passa davanti allora poi ci sono da fa le burla giù le burla giù dove è andato a vieni qua momi mi viene a dare i pizzicotti allora mi sei filato tra i capelli allora dove c'è la e la chi è chi è sul cucuzzolo della montagna nooo allora quindi adesso dobbiamo salutare dobbiamo fare i saluti ma vai in giro pure così tu a B di A B E MIMO e B MIMO e allora MIMACI disconnect cos'è questo nuotare 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 camminare via via lui è il papà è il suo papà è il suo papà che si nasconde vabbè dai allora salutiamo sono bastoni dei selfie un poco molleggiante mi si è impigliato tre cappelli che fa gioca nascondino allora adesso salutiamo lucia grazie ciao lucia ciao lucia non l'ho sentito poi jasmine ciao jasmine e barbe le sue sorelle un bacione a tutti ciao barbe le sue sorelle grazie per seguirci e a commentare sempre continuate così condividete il video così raggiungiamo i 100 iscritti tento tento non lo raccomando eh ma cosa c'è c'è il tubo di natal and day non è ancora natale non è ancora natale ah già fra un po' il mio compleanno cosa mi regali dai dai dillo dai dillo hai cantato fino adesso hai perso già la voce cosa mi regali perché mi spingi mi spinge cosa mi regali dai dillo cosa mi regali ma il microfono cosa hai detto ah ha parlato ah oh stanno volando tutti i papagali iioo dobbiamo aspetta che guarda che cade 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 Con questo video è tutto Sì è già tutto Mi piace Dobbiamo andare Mi sta mangiando i capelli Rinnoviamo i saluti a Lucia, Jasmine e Barbie Le sue sorelle ciao 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 Vi aspettiamo E' partito Vi aspettiamo domani Con un'altra puntata di Un'altra puntata di Bella La famiglia Puntana Bella L'ha vinto Indovinato Adesso è una tolorecchia Guarda che non vuole Guarda che lo mozzica Si vede? No Celeste no Celeste mozica a Toto Guarda Niente È un fetente di uno Quello che guarda Mozica mozica Guarda Guarda Saluta Saluta Non fare lo scostumato Giri le spalle Saluta anche tu Ciao Niente Niente Lui è uno scostumato Scostumato Sei uno scostumato Va bene? Non si fa così Ah beh bravo Visto che ti sei girato Lo sai Dai Adesso vieni a salutare Vieni Vieni Non mi caccare Dai facciamo la pace Vieni Ti diciuccio Va bene Con questo video è tutto Aspetta Ti vieni Dai saluta Guarda mamma Si picchiano Si picchiano Lotta libera È arrivata Guarda 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 Dai vieni saluta Se no il video diventa troppo lungo Questa è Lessia Ha sei anni Dai parla Di ciao a tutti Al prossimo video No Una tramuta Guarda Vabbè almeno saluta No Ciao Guarda Allora c'è da salutare Ciao Lucia Di ciao Lucia Ciao Lucia Ciao Jasmine Ciao Jamil E ciao Barbie le sue sorelle Ciao Barbie le sue sorelle Un bacione Mamma come si picchiano Mamma come si picchiano E grazie per seguirci E grazie per dire Eh ma ti devo dire sempre tutto Però eh Vabbè Noi vi siamo Da C'è questo che ho detto Samutiamo Mamma Aiutateli Tagliando Non è da me Aiuto Partiti Partiti È partito È partito Aiuto L'avete visto Va beh dai Vi salutiamo Dalla famiglia pazza Siamo tanti pazzi qua Vabbè dai È arrivato a tre minuti Il video Noi vi salutiamo E ci vediamo al prossimo video Ciao Dov'è qua Non vedo Non vedo più Ciao Ciao Che cagino Que ca' All'inizio!